Prima di tutto grazie per l'invito a fare questo video e parlare della mia esperienza teatrale. La mia esperienza teatrale inizia all'età di 5 anni, come spettatore. In casa mia erano tutti appassionati di opera lirica, soprattutto i miei genitori, per cui il mio padre ci preparava facendoci leggere il libretto, o leggendocelo nel mio caso, dell'opera, sulla storia dell'opera, ci faceva sentire l'incisione e poi si andava a teatro. La mia prima opera come spettatore a 5 anni è stata Tosca. Ci tengo a dirlo perché quest'opera, di tutte le opere di Puccini, è quella che ha segnato il mio percorso artistico. È stata la prima opera dove ho fatto l'assistente di regia, anzi, prima ancora il figurante, l'assistente di regia, il regista e il direttore palcoscenico. Cioè Tosca ha segnato ogni mio debutto, per cui direi che per me è un'opera portafortuna. Io un consiglio che do a tutte le persone che vogliono fare qualsiasi mestiere teatrale, ma soprattutto quello di regia, è non solo di studiare per fare questo mestiere. Io ad esempio ho una laurea in lettere moderne, indirizzo discipline dello spettacolo all'Università di Pisa, però mentre studiavo calcavo il palcoscenico. Cioè è impensabile fare solo lo studio senza la pratica del palcoscenico, perché per qualsiasi istituzione, anche istituzioni che ti preparano letteralmente per il lavoro sul palcoscenico, se te non hai calcato prima le assi del palcoscenico, lo studio da solo è forse il 40% del lavoro. È importantissimo e soprattutto non si deve mai smettere di studiare, di approfondire gli argomenti. Io ad esempio quando preparo una regia, sia come assistente sia come regista, parto se è possibile sempre dalla fonte letteraria, perché spesso nei libretti venivano sottasciute delle cose, perché all'epoca chi non aveva letto La Dama delle Camelie quando Verdi fece Traviata, per cui alle volte venivano messi in conto il fatto che la gente conosceva dei particolari del libro, per cui si davano per scontate nel libretto e magari si faccia dei riferimenti a situazioni che oggi noi non potremmo comprendere se non abbiamo la base letteraria. E studio anche l'epoca in cui il compositore ha vissuto le idee dell'epoca, cioè è importantissimo veramente contestualizzare il lavoro. E' anche un piacere, perché se uno fa un lavoro e non c'è più niente da imparare, da studiare, è un po' la fine. E io, tanto è vero, continuo a fare sia il regista che l'assistente di regia, perché quando mi capita di lavorare con professionisti come Giacchieri, Scaparro o Stefanutti, gente che da sempre è sul palcoscenico, non c'è altro che da imparare, per cui per me è un grosso arricchimento. Dicevo, quindi, dello studio è importantissimo, tanto è vero, prima dicevo che come la prima cosa che ho fatto sul palcoscenico è stato il figurante. Io ho scelto di fare regia, un po' perché ovviamente è quello che mi piace, ma anche perché io sono protetto dalle quinte. Ogni volta che devo fare una conferenza o delle lezioni, insomma, devo affrontare il pubblico, per me è un grosso trauma, già fare questo video, sapendo che le persone lo vedranno, un po' mi destabilizza, però sono al sicuro in casa mia. Per cui io sto bene veramente dentro le quinte, però ho fatto il figurante perché uno facendo il lavoro che voglio fare io, ovvero un lavoro dove te devi avere sì le idee della messa in scena, ma sapere come funziona la scenografia, la costumistica, l'attrezza, cioè avere un'idea a 360 gradi dello spettacolo è veramente molto molto importante frequentare il palcoscenico. Tant'è vero, l'allora direttore di palco del Festival Puccini, Tony Cremonese, mi disse, se vuoi fare questo lavoro, non venire solo alle prove di regia dove hai richiesto la tua presenza, tra l'altro facevo uno degli sbirri, ma frequenta tutte, tutte le prove di regia e fu un consiglio fondamentale che io riporto a tutti quelli che vogliono fare questo mestiere perché è veramente molto molto importante capire come funziona un palcoscenico, come rapportarci con le persone, perché io forse perché mio padre era un comandante di nave e quando c'erano le feste e lui era al lavoro faceva grandi tavolate con tutte le persone della nave perché lui diceva la nave funziona non per il comandante ma per tutto l'equipaggio e il teatro è un po' la stessa cosa, siamo un grande equipaggio per cui non è che io sono il comandante, io sono un coordinatore di tutte le persone che lavorano sul palcoscenico, dietro le quinte, negli uffici, per cui è importantissimo capire che il lavoro si fa tutto insieme, quando te trovi delle personalità che ne sanno più di te devi ringraziare e approfittare del loro lavoro. Io prima citavo Scaparro come regista, con lui ho un feeling particolare perché con lui ho fatto due opere e ho avuto la fortuna di portarle in tutto il mondo e quando si gira per il mondo ci si rende conto della potenza di Puccini, tutti conoscono Puccini, tutti la prima cosa che mi dicono ah, Italia, l'opera lirica, per cui è importante comprendere che patrimonio abbiamo tra le mani, soprattutto noi abbiamo un teatro a Torre del Lago che è l'unico al mondo che è costruito accanto alla villa dove ha vissuto, ha composto ed è sepolto il compositore. Sfruttiamola questa cosa, veramente abbiamo un potenziale incredibile e lo sanno all'estero e non lo sappiamo noi. Io, come dicevo prima, è importantissimo studiare continuamente, continuamente e capire anche il teatro dove sta andando. Spesso si parla di regie moderne, regie classiche, sono stupidaggine. Ci sono regie belle e ci sono regie brutte. Bisogna sapere come contestualizzare e oggi abbiamo delle tecnologie e delle possibilità in più a cui attingere per fare dei belli spettacoli. Io ho quello che vorrei anche sottolineare che nonostante tutto quello che ci è successo nei mesi precedenti. Il Festival Puccini è riuscito ad andare in scena e ne ha parlato per Final Times perché è stato il primo teatro in Europa a ideare delle messe in scene complete, non semisceniche o concerti. Hanno fatto veramente un lavoro incredibile e soprattutto hanno sfidato la sorte perché non si sapeva se il pubblico sarebbe venuto, se avrebbe avuto paura di partecipare come spettatori in mezzo a altra gente. Invece è stato palese che il pubblico voleva gli spettacoli, sono stati dei sold out e soprattutto un calore di pubblico incredibile e questo devo dire che è veramente una soddisfazione per me che ho partecipato anche quest'anno. Ringrazio chi ha sempre creduto a me, chi mi ha dato le possibilità di crescere anche mandandomi all'estero. E ho avuto la fortuna, grazie a Pucciniano, a lavorare in teatri come Nizza, Messico, Emirati Arabi, Russia. A proposito della Russia, io la prima regia ufficiale da regista che ho fatto sul palco del festival a Puccini, Traviata di Verdi, non Puccini, Traviata di Verdi. Però è stata un'esperienza bellissima e questo lo devo alle persone che hanno creduto in me e soprattutto devo ringraziare anche per un'altra opera che ho fatto all'estero che è Junior Butterfly, che in Italia è stata capita un poco come, è stata spacciata come il seguito di Butterfly, che effettivamente lo è, però è un'opera che secondo me andrebbe recuperata perché in questi giorni il messaggio pacifista che manda è bellissimo. E è bellissima come la storia chiude ad anello quella di Butterfly con un senso poetico. Poi forse sarà perché io sono anche maestro di Kebana per cui sono molto legato al Giappone e alle tradizioni giapponesi per cui Butterfly è un'opera che sento particolarmente e quando sono stato in Giappone come direttore di palco sono andato a vedere anche i luoghi ispirati alla Butterfly o dove ci sono i santuari degli dèi di cui si parla in Butterfly per cui veramente è stata un'esperienza incredibile è un'opera che amo molto però sinceramente non c'è un'opera di Puccini che non ami. Il mio sogno però è uno solo mettere scena il trittico perché Tabarro è di una bellezza e una malinconia incredibile però c'è la genialità di Gianni Schicchi che è straordinaria e soprattutto il mio sogno è mettere in scena Sor Angelica. Grazie per l'attenzione.